buongiorno ragazzi e bentornati sul canale oggi ho per voi alcune soluzioni meccaniche per poter accoppiare delle lamiere accoppiare delle lamiere dei supporti delle staff e pannelli di qualsiasi materiale voi vogliate le soluzioni meccaniche sono queste quattro ce ne sono anche altre ovviamente dipende un po dalla disponibilità economica dalla manualità che avete e soprattutto dall'attrezzatura che avete qui davanti a voi abbiamo quattro esempi che potranno aiutarci per un accoppiamento meccanico senza saldature partiamo dal primo esempio un rivetto il rivetto passante attraverso i fori io l'ho preso più largo per non stare a fare altri fori il rivetto cosa fa entra all'interno del foro si espande ora ve lo mostro si espande e stringe guardate si espande e va a stringere le due piastre una contro l'altra in questa parte qui in questa zona qui dove il diametro non è non si è dilatato va a far tenuta sulle piastre e questa qui è una classica rivettatrice che trovate in commercio e in rete una cosa un po più cossosa può essere e possono essere gli inserti filettati qui ne abbiamo di tre tipi abbiamo questo inserto filettato in gomma è un gommino molto morbido con qui l'inserto filettato questo qui adesso è in pollici e ha lo stesso funzionamento del rivetto andiamo a provarlo qui ecco noi man mano anzi metterò anche questa metterò anche una rondella anzi questo dadino così rende meglio l'idea allora cosa succede che noi andiamo a stringere il nostro perno il nostro bullone e si dilaterà il gommino dilatandosi il gommino vedete si è già aperto dilatandosi va a fare tenuta è lo stesso principio del rivetto questi vengono utilizzati molto spesso per le carene delle moto la cosa positiva è che il rivetto non gira perché la gomma fa attrito sull'acciaio quindi potrete avvitare e svitare senza nessun problema passiamo a un'altra soluzione un'altra soluzione sempre molto economica sono questi inserti anche questi qui li troviamo o nei pannelli che sono sotto i motori delle auto o in alcuni punti per ancorare i paraurti delle auto o le carene da moto questo qui è sempre un passo m6 esatto cosa succede mettiamo il caso noi vogliamo accoppiare queste due queste due piastre metteremo questo questa molletta questo inserto filettato su la piastra interna andiamo a fare l'accoppiamento e da quest'altra parte noi andiamo ad avvitare il bullone ecco qua questo vi permette di fare un accoppiamento meccanico senza saldature e senza filettature quindi qualora abbiate un problema di spessori tipo questo lamierino che è un lamierino da un millimetro e mezzo questo lamierino da un millimetro e mezzo non permette di filettare con un maschio perché ha pochissima carne quindi i giri di filetto sarebbero pressoché nulli noi andiamo a inserire questo questa farfalla questo questo morsetto che dà la possibilità di poter filettare il foro di una lunghezza di 8 millimetri qui abbiamo un filetto lungo 8 millimetri 8 millimetri significa che noi sul nostro sul nostro bullone andiamo ad avere vediamo un po quanti filetti sono ecco qui sono 1 2 3 8 filetti l'ultimo che vado a mostrarvi è l'inserto filettato l'inserto filettato come dice stesso la parola è semplicemente un un inserto che funziona sempre come un rivetto in questo caso funziona come il rivetto in gomma che vi ho mostrato prima solo che questo qui è una modifica reversibile cioè la possiamo inserire all'interno della nostro foro e possiamo toglierlo all'occorrenza questo qui invece non ha la stessa facilità di sostituzione perché noi andremo ad aprire il corpo del 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 rivetto dell'inserto lo andremo ad aprire a fungo e farà corpo unico con la piastra in questo caso noi abbiamo un labbro svasato vedete che il labbro questo labbro qui è svasato e zigrenato per offrire migliore tenuta sulla sulla piastrina al momento dell'apertura qui ho la pinza o la pistola come la si vuol chiamare per poter inserire l'inserto filettato inserto filettato va avvitato sul sul perno della pinza lo inseriamo nella sede dove ci occorre e andiamo a tirare ora spero che si riesca a vedere si apre già ecco qui ovviamente non bisogna forzare troppo come per il rivetto altrimenti andiamo a sfilettare la femmina ecco qua abbiamo il colletto interno vedete che si è aperto a fungo preme contro l'altro colletto e fa tenuta vogliamo fare un accoppiamento possiamo farlo senza problemi ecco qua ragazzi il video termina qui questi qui sono i quattro esempi di accoppiamento meccanico senza saldature questo per un'applicazione motociclistica per agganciare delle carene dei supporti dei supporti faro supporti cupolino questi qui sono dei vecchi supporti faro e cupolino di una cafferese questo qui è il telaietto porta faro e porta frecce del virago 535 ho cercato di darvi più input possibile per l'applicazione di questi inserti filettati che siano a molletta che siano a rivetto in gomma che siano a rivetto non filettato oppure che siano a inserto filettato bene ragazzi spero che il video vi sia utile per le vostre modifiche per le vostre preparazioni e per il vostro fai da te in garage un saluto a tutti e buona giornata ciao 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 ciao